Reggere un primo tempo anche nel secondo, penso che in queste categorie giocare così bene per 95 minuti mi sembra un pochino troppo. Siamo vicini, siamo vicini, siamo vicini, però ancora non abbiamo fatto nulla perché abbiamo fatto un secondo tempo secondo me dove dobbiamo essere un pochino più bravi non a gestire la palla. La palla si gestisce ma andando in avanti, però diciamo che la Paganese ci hanno messo in difficoltà perché hanno messo un attaccante in più, hanno cercato subito la ripartenza veloce, ci hanno creato qualche problema tattico e quindi abbiamo dovuto ricucire un pochino le fila e poi onestamente ci hanno complicato la vita questo rigore, veramente incredibile se devo dire la cosa. Sciocco? No, incredibile, non può esserci un calcio di rigore che è una dinamica del genere, c'è una dinamica proprio completamente sfalsata, però al di là di questo ci siamo complicati la vita perché sapete meglio di me che basta un episodio del genere a cambiare tutto, anche squadre fortissime che vincono 3-4-0, 4-1, quasi vengono recuperate se non recuperate. E quindi abbiamo fatto un'opera conservativa nel secondo tempo, però credo che la vittoria di oggi sia un giusto premio per questi ragazzi, solo che l'unica cosa che se mi lasciate la parola ho ancora 10 secondi, mi dispiace veramente del grave infortunio per Di Matteo, al quale dedichiamo tutti noi stessi affinché lui possa recuperare al più presto. Rottura del tendine d'Achille? Da quello che ho sentito dai medici credo di sì, purtroppo è un infortunio piuttosto pesante che nessuno merita come atleta e lui maggiormente per quello che stava dando e per la nostra causa. Tantichamente pensa di aver trovato la quadratura del cerchio adesso, soprattutto quando si affrontano difese a 5? No, devo dire che c'è stata grande disponibilità da parte dei giocatori come Mungo e Bombaggi che non sono certamente due ali e non l'hanno neanche fatto, diciamo, questo tipo di ruolo. Loro due sono stati veramente molto ficcanti, soprattutto bravi in certe situazioni che avevamo provato, quindi credo che per noi i principi siano molto più importanti dei sistemi di gioco. Però il sistema di gioco di oggi è funzionato come mai in passato? Era anche la prima volta che lo provevamo con un po' di incertezza, diciamo, negli interpreti, però credo che la squadra abbia fatto veramente un primo tempo molto importante. La ringrazio, ti ringrazio, però penso che la mia squadra sia stata in qualche frangente anche in altre cose. Oggi abbiamo dato proprio l'impressione di alzare l'indice di pericolosità e questo merito va ai giocatori perché hanno messo l'interpretazione di quello che chiedevo a servizio della squadra. L'interpretazione è stata sicuramente corretta, ma il fatto di avere tanti piedi buoni tutti insieme in campo è quella la strada da percorrere. Abbiamo sempre detto, e ve lo dirò fino alla nausea, che i più grandi solisti di musica, se non hanno i tempi e il modo di entrare per creare un certo tipo di ambiente proprio musicale, non basta la qualità. Servono anche i tempi, serve il lavoro, serve la grande predisposizione al sacrificio anche in fase di non possesso. Nella buona prima frazione, forse la migliore finora mai vista, da sottolineare la fase di impostazione di Costa Ferreira, che probabilmente nessuno si aspettava, e gli inserimenti di Lari che la Paganese ha fatto fatica a leggere. Sì, siamo contenti perché la Paganese è una squadra che io reputo veramente molto forte, sotto l'aspetto proprio tattico. Avergli creato dei grattacapi nel primo tempo per noi è stato un motivo di grande soddisfazione. Abbiamo unito un po' la capacità di non possesso, ma soprattutto una grande capacità di indice di pericolosità che mi ha fatto piacere. Sono contento per i ragazzi, perché se lo meritano davvero per il lavoro che fanno durante la settimana. Lei è soddisfattissimo oggi? No. Per il gol preso? No, no, non sono soddisfattissimo. Sono felice per aver fatto vedere un primo tempo importante e vorrei avere la continuità di azione per un po' più di tempo. Però con queste cose, con queste basi qua, allora la partenza potrebbe essere felice. La vera svolta può arrivare in trasferta? Giochiamo su un campo difficilissimo, molto difficile. Avete visto oggi anche i risultati. Ci sono partite veramente da pronostici clamorosi. Dobbiamo festeggiare mezz'oretta e dopo dobbiamo pensare già a questa squadra che veramente in casa, soprattutto, mette in difficoltà qualsiasi squadra. Grazie. Grazie. Grazie.